È una partita importantissima che arriva come terza di quelle appena affrontate che non ci fanno dormire sonni tranquilli perché comunque bisogna stare concentrati, bisogna stare sul pezzo e quindi l'affronteremo come al solito. Abbiamo recuperato energie fisiche e nervose e quindi bisogna mettere in campo tutte le componenti che la squadra fin qui ha messo in campo. Al di là dei nomi sicuramente qualcosa in questo senso si potrebbe fare. Sapete che non cambio tanto per cambiare, le risposte o i segnali mi li devono dare i giocatori. Sicuramente chi è entrato con il Pordenone ha fatto veramente bene, anche sotto l'aspetto nervoso che non è una cosa di poco conto. Per il resto abbiamo ancora 24 ore, più di 24 ore per poter gestire le forze e quindi per recuperare le forze. Vediamo domani, domani pomeriggio, a che punto siamo. Sicuramente la possibilità di poter cambiare qualcosa ci sta. È sempre l'aspetto mentale che fa la differenza. Abbiamo visto anche nei momenti di sofferenza con il Pordenone, dove magari c'era meno brillantezza rispetto alla precedente partita con il Cittadella, i ragazzi sono riusciti a essere tranquilli, ad avere la serenità giusta per poter poi fare le cose come si deve. La partita di domani sera diciamo che si prospetta anche in questo senso. Avere la giusta pazienza ma la capacità di essere incisivi come poi del resto la squadra si è mostrata in certe caratteristiche. Quindi non soltanto un buon dominio del campo ma anche incisività in avanti. In questo momento forse è anche più facile preparare le partite perché comunque i risultati aiutano anche ad avere quella consapevolezza in quello che si fa. Credo che i ragazzi stiano sulla stessa lunghezza donna di tutti quanti. Sicuramente pensiamo di partita in partita, ora c'è la serenitana poi penseremo alle prossime. Però se dovessimo fare una tabella, vedere come vanno le altre, bisogna mettersi in testa che per vincere questo campionato, o perlomeno per poter andare in una categoria diversa, bisogna vincerle tutte. E quindi non bisogna prescindere da qualsiasi altro pensiero che non è quello di avere questo sacrificio mentale che domani sera in qualsiasi modo dovesse finire la partita il campionato possa essere finito o possa essere risolto già dalla partita precedente. Noi si guarda avanti, domani sera c'è un avversario e poi penseremo al prossimo. Però da qua alla fine mancano quattro partite e di queste quattro partite dobbiamo prendere più punti possibili. Abbiamo un vantaggio, bisogna mantenerlo. Ho detto in altre precedenti conferenze che questo vantaggio bisogna mantenerlo fino alla fine. Poi se gli altri non saranno così bravi di starci dietro magari potrà aumentare. Ma noi dobbiamo essere più bravi di quello che abbiamo fatto fino adesso perché è troppo importante la posizione che stiamo occupando e questo distacco, ripeto. Si può migliorare tutto. Io sinceramente vorrei vincere le partite così per usare il contraddittorio di quello che magari ogni tanto gli si può dire. Il fatto di vincerle sporche, di vincerle non in maniera netta come magari del resto questa squadra è abituata a fare. Vorrei vincere le partite e così devono andare. Però è chiaro che se la squadra mette in campo, se i ragazzi mettono in campo certe caratteristiche caratteriali è sicuramente un aspetto che va ad avvalorare, che va a far crescere la prestazione individuale di ognuno di loro.